Suciti ad imporsi sul Campania per 2 a 1 ed il successo in una domenica caratterizzata dai pareggi delle formazioni di testa permette loro di rosicchiare un prezioso punto in classifica dove si ritrovano ora ad un punto dal Perugia e a 2 dalla Vetta. Di Roselli e Cozzella le reti della Ternana mentre per il Campania ha accorciato le distanze e buon cammino. In C2 vittoria del Gubbio che ha battuto per 1 a 0 il...